Perché si parla di emergenza lavoro oggi in Abruzzo, segretario? Si parla di emergenza lavoro perché i dati ci dicono qualcosa di molto preoccupante e di inquietante. Diminuiscono della metà i contratti di lavoro a tempo indeterminato, raddoppiano i contratti di lavoro a termine. Questo significa una cosa molto semplice e molto preoccupante, che quel poco di occupazione che cresce è prevalentemente occupazione precaria, lavoro a termine, della durata anche di pochi mesi. Questo d'altra parte ce lo dicono anche i recentissimi dati sulla povertà. L'Abruzzo è una delle regioni dove la povertà relativa in percentuale aumenta più di altre regioni. Ci sono 80.000 persone in condizioni di povertà e ci sono 350.000 persone a rischio di povertà. C'erano occasioni per prendere in tempo questo problema. Noi sottoscrivemmo due anni fa, ormai sono più di due anni, il patto per il lavoro e per lo sviluppo che impegnava in particolare le risorse comunitarie della programmazione 2014-2020. Non c'è stato dato più conto sullo stato di attuazione di quel patto per il lavoro e per lo sviluppo e soprattutto la regione Abruzzo ha un fortissimo ritardo nella capacità di spesa dei fondi comunitari 2014-2020. Noi abbiamo necessità assoluta che la programmazione della regione in qualche modo debba dare sostegno alla piccola e media impresa. Le grandi imprese riescono ad agire anche in termini autonomi, ma la piccola e media non riesce a dare quell'impulso in innovazione e ricerca che è necessario. Per fare questo, come diceva anche il collega, c'è bisogno di grande infrastrutturazione, di grandi strumenti di programmazione che diano microcredito, per esempio, alle aziende artigiane. Fino adesso la crescita c'è stata, ma è una crescita precaria ed è una crescita che si è praticamente sostenuta soltanto con la buona volontà delle imprese. Ci rivolgiamo alla regione, ci rivolgiamo ai datori di lavoro, ci rivolgiamo al mondo imprenditoriale in generale che deve riavviare con noi e con le istituzioni regionali una discussione per riprendere il percorso che ormai da tempo è interrotto, cioè quello di una risalita di questa regione che consente di ragganciare la ripresa, che consente di dare alle giovani generazioni posti di lavoro non precari ma strutturati e che consente di dare al sistema industriale di questa regione una possibilità di poter vincere la sfida dell'industria 4.0.